Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Che si potrebbe riconoscere come il padre dei Souls-like o dei Souls-born perché comunque riprende tante meccaniche davvero molto carine e quella difficoltà e quella sfida dell'uccidere i nemici e poi andare a spendere i punti esperienza in miglioramenti. All'inizio possiamo scegliere tra quattro classi. Abbiamo il Sargon, scudi e spade e una mano. Abbiamo qua sotto il Naglfar, praticamente scudi e asci una mano, un nano in pratica. Poi abbiamo lei che è una Zoe ed è Lance e alla fine abbiamo lui che è Tukaram, spade e asce e due mani. Ok, possiamo andare a iniziare la partita, possiamo accedere al tutorial o continuare. Io vi farei vedere il tutorial perché è davvero molto molto interessante. Praticamente noi abbiamo questa la grafica ma non fatevi ingannare perché il gioco non è assolutamente male. Non è assolutamente male. Ora, vedete che io sto giocando con il pad ma in realtà se vado con la tastiera VS non è comodissimo perché devo premere VS e lui si gira in automatico. Non è comodo. Il tasto LT mentre cammini possiamo muoverci furtivamente. Vedete che ci sono tutte le meccaniche ma le meccaniche migliori devono ancora venire perché col tasto A io combatto. Mentre in questo caso adesso mi fa vedere il salto quindi vedete che posso saltare e lui va e qua sembra un buco ma in realtà purtroppo è una texture vecchia. Vedete che è Acqua, è un po' alla texture, un po' alla Tomb Raider dei primi. Praticamente vedete che lui si aggrappa facendo anche una sorta di salto un pochino più forte. Lui riesce ad andare su e poi possiamo ovviamente anche saltare giù. E andare avanti. Ora abbiamo la possibilità di interagire. Praticamente premiamo il tasto X e interagiamo. La cosa molto bella è che il tasto del salto fa anche da tasto per la selezione multipla degli oggetti presenti magari sui tavoli. E questo è abbastanza sorprendente. Ve lo faccio vedere perché adesso il gioco mi ha fatto attivare due tasti. Il gioco costa 5 euro, ve lo dico subito che è fighissimo come cosa. Ora vediamo, vedete qua sotto, esce Infiammabile e Fragile. Questo che cosa vi fa pensare? Che stiamo per andare a provare qualcosa di interessante. Vedete, noi premendo il tasto B possiamo, ci evidenzia quello che c'è a terra. Io ne scelgo uno, premo questo, mi avvicino e premo X. Adesso X, lui me la accende. In questo caso dobbiamo bruciare il muro di casse, quindi ci avviciniamo e selezioniamo con lo stesso del salto. Vedete che mi sceglie indistruttibile o indistruttibile. Io faccio questa, infiammabile, lo uso e vedete che lui va a bruciare la cassa. Perfetto, e ora si va avanti. E ho sempre questa in mano. Leva, tiro la leva, sempre tenendo in mano la torcia. Ora la torcia, ha aggiunto un po' di tempo, è passato un po' di tempo, si spegne. Vedete che si spegne, mi sono mosso anche velocemente, quindi si spegne, ma comunque c'era l'acqua per poterla spegnere. Ora, come usare gli oggetti? Cerca di prendere oggetti diversi in questa stanza, il mele e il formaggio sono deliziosi. Quindi vedete che qua ho la carne, io posso andare a scegliere, prendo la carne, la mangio e vado a curarmi. Ora prendiamo delle pozioni che ci saranno senz'altro utili. Le prendo entrambe. E ora mi fa capire che con le frecce direzionali posso scegliere, in questo caso c'è una pozione, in alto o a destra, se ne avessi più cose potrei scorrere e fintanto che la porzione è ancora visibile, premendo X vado a berla. Il fatto che la butti a terra con il rumore proprio di vetro è veramente una finezza. Ma il meglio deve ancora venire perché il gioco è doppiato in italiano. Non avevo aspettato un attimo a direvelo, ma... Vedete che prendo la chiave di ferro e con la chiave di ferro posso andare ad aprire l'asserratura di ferro. Ah ok, prima di proseguire... Ok, e questa è un'altra cosa interessante perché io scelgo lo sgabello, lo prendo e con il tasto RB mi si carica questa barra e una volta carica lo lancio. Ovviamente se fosse un oggetto incendiabile si sarebbe incendiato. Adesso probabilmente non era previsto dal tutorial. Ora, inseriamo la chiave e andiamo ad aprire la porta e arriviamo in uno dei punti più interessanti. Tanto vedete... Vabbè, c'erano delle bellissime vetrate prima. Devo prendere delle armi, quindi in questo caso mi piacerebbe prendere... Allora, il sistema vi dico, con il mouse e la tastiera è quasi più comodo che col pad, ma il pad funziona bene. È solo legnoso perché è un gioco comunque vecchio. Progettato per Barbaro. Queste schermate qui non preoccupatevi, escono molto piccole, ma in realtà poi le vedremo bene. Dobbiamo scegliere un'altra arma, dobbiamo averne tre, ma al momento ne abbiamo solo una. Quindi ne prendo altre al volo. Prendo la lancia. E in questo caso mi mancheranno gli scudi e quindi andiamo a prendere anche gli scudi. Abbiamo questo. Ovviamente il gioco ci ricorderà che qualora noi utilizzassimo un'arma a due mani, lo scudo ce lo scordiamo. Tasto RT per fronteggiare un nemico. Praticamente premendo il su mi sgancio. Ok. E praticamente aggancio il nemico con questo e inizierò a cercare, vedete che gli giro intorno come classico. Mentre con B posso andare a schivare di lato. La cosa bella, che qua mi ha ricordato un po' anche Kingdom Come, è l'attacco. Praticamente io uso un tasto di movimento sinistra e destra, fa sempre attacchi diversi. Vedete che in base a cosa scelgo lui fa attacchi diversi. Ora dobbiamo uccidere un cavaliere. La cosa su cui devo un pochino prendere confidenza è il fatto che è il fatto che tante volte mi ritrovo di spalle e devo premere Y e mi fa girare. Ed è un po' scomodo ma parlano in italiano loro comunque. Adesso io ne punto uno, faccio un po' di... Con immensa soddisfazione. Che violenza! Bene, ora, ultima lezione, credo sia l'ultima, da che ricordo. Prendiamo la faretta e prendiamo l'arco. In questo caso anche qui mi ha ricordato molto Kingdom Come per la mia capacità. Vedete qua, vado a scegliere l'arma, continuo a premere in giù e poi quando arrivo sull'arma giusta premo su e me l'equipaggia, credo, no? Vabbè, tanto rimango fermo e me l'equipaggia. Tengo premuto A, il bersaglio di fronte a me, vado a puntare. L'ho preso il primo colpo, ho un pochino imparato, ma bisogna... O al massimo mettete un pezzo di scotch sul monitor. Sei riuscito a completare, ora sei pronto per l'avventura. E ok, e qua abbiamo iniziato. Cioè, stiamo per iniziare l'avventura. Non è sicuramente... Ah, vi lascio il... Questo. Rimane il ricordo degli alti e freschi pascoli. Il mormorio dell'acqua dei ruscelli. L'ombra solitaria di un vecchissimo albero. Il vento selvaggio e i falchi che cacciano in libertà. I giorni di viaggio attraverso le terre delle antiche tribù sono stati come un sogno. Ma adesso, davanti ai tuoi occhi, ecco Kashgar. Ok. Non siamo abituati a questi doppiaggi dei vecchi tempi. La cosa non bella è l'acqua. Dei suoi sacri monoliti. Sembra che... Ma poi dopo un po' ci si abitua. Va bene, questo è il padre di Dark Souls. Probabilmente. Soulsborne lo chiamano. Esploriamo un pochino, vediamo. Intanto la grafica è quella che è, ovviamente. Ma qua... Io questo gioco non mi ricordo come l'ho conosciuto, ma so che qualcuno aveva scritto a proposito di questo gioco e tanti gli erano andati dietro dicendo sì, è bellissimo anche al giorno d'oggi. È assolutamente da giocare perché è il precursore di tutto quello che è Dark Souls e simili. Ed effettivamente potrebbe anche avere ragione. Anzi, sicuramente ha ragione perché se l'ha detto un motivo c'è, ma... Pozione di vita. Vedete, io col tasto... Che spettacolo. Premo. Non ho bisogno ancora. Sì, ma vorrei solo metterla via, non voglio usarla, la pozione. Prendo anche la clava. Adesso io premendo tab. Eh sì, tab. Back. Ho le combo delle varie armi. Le abilità. Quindi usando queste abilità qui ho gli oggetti che posseggo e i testi che ho trovato. Adesso vediamo se sono distruttibili. Quindi sì, ho trovato una pagnotta. Vediamo se si può prendere. Non ne ho bisogno ancora, va bene. Va bene, andiamo avanti. Ho preso una seconda arma che posso shiftare tra appunto la clava o la spada del caos. Quindi continuiamo con questa. Non so se mi sono perso o no, credo sia la strada giusta. Non so, direvi la verità, se poi si aprirà in un mondo aperto o più sullo stile Dark Souls è un percorso. Comunque, avanti i marani. Muoiono con un colpo questi. Ho bisogno di più energia per questo attacco perché la stamina c'è. Infatti vedete che è abbastanza provato. Il Gladius lo scudo aquilone che potrei anche equipaggiare subito. No? Solo che non so come equipaggiarlo. Eh, da qua. Ok. Lo equipaggio subito. Dovrebbe. Non so cosa sto facendo, ma vabbè. Ah, sto portando a due mani la spada. Sì, non posso metterlo scudo giustamente perché è un'arma a due mani. Non me lo ricordavo più. Non so dove devo andare, ma penso da questa parte. E continuo a premere i tasti a caso. Ok. È un po' come giochiamo oggi Outward che è abbastanza di nicchia, abbastanza legnoso, abbastanza tosto. Questo è un gioco del passato che secondo me è godibile anche oggi. Pulsante. Non so cosa stia aprendo questo pulsante, ma... Ci ha aperto probabilmente questa porta. Minchia, se è forte questo. Però l'ho colpito. Ok. Clava. No, vabbè. Ho bisogno di pozione. Mannaggia, non ho più niente. Vabbè. Continuiamo l'esplorazione. So che per il 90% di voi che guardate il video probabilmente questo è un gioco che non... che non ha senso, che... ma perché l'ho riportato. Mi ha incuriosito molto, come ho detto, quello che ha detto un utente, non ricordo dove, dove diceva io ho giocato... ho rigiocato anche questo, questo è da giocare assolutamente divertentissimo anche oggi. ed è il Padre di Dark Souls. Dei Souls. Non so. O di Bloodborne. Insomma, un mix, perché comunque è un... Soulsborne. Ok. Ovviamente la grafica è quella che è, l'abbiamo già detto, ma è ottimizzatissimo per il Pad. Padre l'ha preso subito. Oh, mi scusi, perdoni. Le... Io le... No, 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 no. Mannaggia, ma porca. C'è la miseria, mi ha tagliato a me la... la testa. Ma pensa a te. Vabbè, questo qui praticamente mi ricarica la... la partita qui. Ehm... Non lo so. Perché... Siamo proprio all'inizio, inizio, inizio, inizio. Quindi bisogna rifare tutto. Ecco, a differenza di... Ah, qua siamo partiti, sì. Perché avevo salvato prima, in realtà, perché potete andare in gioco, salva partita, e poi salvate il... la... la zona. Possiamo provare a ritornare lì e vedere, no? Non voglio fare un video eccessivamente lungo per un gioco così perché comunque chi doveva incuriosire lo ha già incuriosito, probabilmente. Chi doveva fuggire ha già chiuso il video. Però il gioco è veramente... Io non lo conoscevo per quanto fosse vecchio il gioco. Non lo conoscevo. Tra l'altro io sono andato di qua prima e ho trovato della roba da mangiare. Quindi, mannaggia. Eh, bisogna ricordarsi di taggare, flaggare i nemici. Perfetto. Si può mangiare qualcosa qui perché ho finito un po'... Vedete, poi è abbastanza lignosetto, eh? Devo ancora imparare bene i tasti. Abbiamo un pagnotta. Mangio. Sì, ma curato, quindi direi che... va più che bene. Proviamo a vedere se... Questa è la parata. Il Perry. A tempo. E se parliamo sì di 30 anni fa il percorso? E se vedete quella porta l'abbiamo aperta prima anche a quella che... Scusate, buonuomini. Adesso vi attacco così come viene. No, tutti senza testa. Allora, vediamo un po'. Pozione di vita. Ah, la beve subito. Ok, non me la metto in inventare. Va bene, va bene, va bene, va bene. Dai. Facciamo veloce che... Voglio solo vedere cosa c'era dopo. Uh! Stiamo sperimentando tutta la legnosità di questo titolo. Mannaggia me. prima ce l'avevo fatta subito salto e basta, sì. Bisogna solo avere cura. Non ha il gameplay flow di un... di un... di un... di un Call of Duty. e l'avevo schivato io, però, eh. Questo è tosto. È veramente molto cattivo. Scudo. Eh, avrei bisogno di cura io, ma... Vabbè. Eh... Qua si può saltare su? Non credo. No, 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 no. Sto scattando foto col pad. Non so. Sì, scatta premendo lo stick di screenshot. Va boh. Allora. Qua si sale. Oh, sono quasi muovato. Però... Ovviamente io vi invito se siete arrivati fino a questo punto del video a condividermi le vostre esperienze se avete giocato questo gioco anni fa. Perché io onestamente non lo conoscevo. Adesso. Me la sono vista bruttissima perché stavo per morire. Ho un punto vita. C'è un arto che mi fa sicuramente da d'arma. Posso lanciarlo. Ma non fa niente. Allora. Sì. Distruggo le casse piuttosto che bruciarle. Cos'è questo? Pagnotta. Mangia la pagnotta per Dio. Ho 11 punti vita. e ovviamente con fare saggio andiamo a salvare. L'acqua è è una lastra specchio ed è molto 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 ingannevole. Non che non è bella da vedere. tra l'altro qua è tutto chiuso quindi non saprei dove andare perché è finita qui questa parte di mappa anche se anche se non c'è niente purtroppo purtroppo è così bisogna andare dall'altra parte vedete qua ci dava anche una torcia con la possibilità di bruciare le scatole beh intanto siamo praticamente quasi morti quindi ma c'è un portone qua ma non puoi saltare su ok sì bravo e qua si salta giù ok girati spada del caos ma ce l'ho già la spada del caos vabbè ne prendo un'altra eh no non è raggiungibile perché prendi la spada del caos adesso ne abbiamo due qua c'era la porta di legno ma a me non me ne frega niente voglio voglio fuggire voglio vedere un po' di mondo aperto eh infatti qui può andare no non abbiamo visto il livellamento vedete che siamo a livello 1 ci manca poco a livello 2 comunque ragazzi io mi interrompo qui fatemi sapere che cosa ne pensate di questo severance blade of darkness 4,99 scontato adesso poi in realtà il suo prezzo intero sarebbe il prezzo pieno sarebbe 12,49 doppiato anche in italiano perché è un gioco da altri tempi di 30 anni fa condividete le vostre esperienze o semplicemente ditemi che cosa è successo cosa ne è parso di questo titolo e cos'è successo alla vostra vita ecco dopo aver visto un gioco del genere e vi saluto vi ringrazio vi rimando a un prossimo videogameplay alla prossima e ciao ciao